Eri presente al processo di tuo padre? Ciao Martin, benvenuto. No, non alzarti. Tanto avremo tutto il tempo per parlare e discutere. Se c'è ancora qualcosa che non hai detto, ricordati. Qui sei protetto dal segreto professionale. Senti, se vuoi davvero aiutarmi, porta in salvo la mia famiglia. Mi piacerebbe che mi raccontassi qualcosa in più della tua storia. Capisci cosa voglio dire? E cosa mi aspetto da te? Ti piace qui? Bello. Purtroppo è arrivato questo fax. È una cosa terribile. Il materiale ce l'hai tu? Ho fatto una copia delle mie registrazioni. Ci darà anche le copie del padre. Questo è un delitto di Stato. Ci faccio un servizio che diventa una bomba. Il mio nome è Martin Hassel e vengo dall'Albania. Sono qua per raccontarvi la storia del mio paese. Lasciami solo. Va bene. Che è anche la mia storia.